C'è una città nella città dove i bimbi lottano per giocare. No, non è una lotta per gioco da doversi accaparrare. Lottano contro un'ingiustizia che non possono capire e noi grandi ai loro perché non troviamo spiegazioni. Con il tuo contributo farai entrare più luce in ogni stanza. E aiutando la ricerca tanti bambini potranno guardar fuori. Aiutiamoli a diventare grandi. Sosteniamo la fondazione Città della Speranza. Grazie a tutti.